Caviale di aceto balsamico, no vabbè, è facilissimo da fare amici, basta far cadere l'aceto balsamico nel quale abbiamo sciolto l'agar agar nell'olio d'oliva freddissimo, si creano tante bellissime palline che poi si scolano e si possono mettere dove vogliamo, in questo caso io ho condito la mia insalata caprese, provatene, fatemi sapere!